H7, benvenuto su Today! Ciao! Allora, è il tuo primo Sanremo, subito tra i big. Stai realizzando adesso che sei qui, che non è un sogno? Ancora non del tutto. Ci metto un po' di tempo per metabolizzare, però sono super felice, super emozionato. Non vedo l'ora, non vedo l'ora che arrivi la sera e possa esibirmi e dare il massimo. Poi, tu hai avuto il Covid proprio poche settimane prima di partire, se hai risultato positivo, è stata immagino una doccia gelata quella, fino all'ultimo non sapevi... È stata una botta perché pensavo di non riuscire a riprendermi in tempo, però sono una persona che cerca di pensare, passami il termine, il gioco di parole, positivo, proprio perché ho bisogno di energie positive e di crederci, quindi speravo di riprendermi presto e così è successo, quindi sono contento. Perfetta Così è la tua canzone ed è dedicata alle donne, è un incoraggiamento alle donne di essere se stesse, perché appunto sono perfette così, ma le giovani donne di oggi, visto che tu sei giovanissimo, si sentono così imperfette? Ma io penso che c'è una parte della nostra vita in cui tutti ci siamo sentiti un po' imperfetti, e più che un invito alle donne, è un invito a tutti. L'ho scritto in primis cercando di parlare a me stesso, solo che per me risultava un po' scontato parlare a me stesso e sentivo il bisogno di parlare a una figura importante come una donna. È come se avessi parlato un po' a mia madre, a mamma, no? E sentivo appunto questo bisogno di autoconvincermi che l'accettazione fosse la cosa giusta per vivere meglio. Nel mio, diciamo in passato, mi sono sentito un po' non accettato da me stesso e accertarmi era la cosa giusta e sentivo che prima o poi dovevo arrivare a quel tassello e pian piano con l'esperienza sono riuscito a sentirmi bene con me stesso e se l'ho fatto io sentivo il bisogno di lanciare un messaggio a chi non si accetta e non riesce a vedersi bene appunto di far sì che entrasse nel pezzo e riuscisse almeno con un piccolo aiuto se c'è la possibilità di farsi accettare da solo. E questo è un tema oggi molto attuale perché poi con i social forse questo è un problema che emerge ancora di più, no? La difficoltà ad accettarsi, no? L'attenzione, l'importanza che si dà all'apparenza. È un tema sì importante. Comunque nei social si cerca sempre la perfezione, un po' quel tassello di sto bene, non sto bene, come sto, la foto la pubblico, non la pubblico. Io penso che bisogna semplicemente essere se stessi e accettarsi, sentirsi bene, che poi alla fine arriva... Cioè io, la gente percepisce ciò che sentiamo. Se io percepisco di non star bene, a prescindere dalla foto che magari hai ritoccato meno, la gente lo percepirà lo stesso. Altrettanto penso che se nella foto non vengo ritoccato, no? Se mi sento di star bene, la gente lo percepisce. Allora, disco di platino per l'album Desordio, triplo disco di platino per Loca, con cui ci hai fatto ballare praticamente tutta l'estate. L'ultimo anno è stato eccezionale per te. Come l'hai vissuto questo successo? E come lo vivi tuttora? L'ho vissuto inizialmente non metabolizzando tutto quello che fosse successo. Ringrazio ogni giorno per tutto ciò che ho, perché l'ho sempre sognato da piccolo e vedere realizzare comunque parte dei miei obiettivi e dei miei sogni è per me importantissimo. Oggi sono convinto di ciò che in realtà voglio in futuro. Il passato per me è un tassello importante, nonostante comunque sia recente, però cerco sempre di guardare avanti e puntare sempre in alto. Ecco, se ho realizzato parte dei miei sogni è perché sono sempre stato un sognatore e voglio continuare a farlo per far sì che si realizzino in futuro. E questo è uno di quelli, no? Immagino. Assolutamente sì, assolutamente sì. A proposito, so che ti sei portato la PlayStation, ma giochi a FIFA per ingannare l'ansia in questi giorni? Gioco a FIFA sì, per avere quella piccola parte della giornata da dedicare a me e sbagare un po'. E magari condividerla anche con altri. Ok, ma questo poi è un Sanremo, è il tuo primo Sanremo, ma è molto particolare perché è un Sanremo blindatissimo, non vi potete incontrare. Come è l'atmosfera tra voi cantanti, tra voi bici? L'atmosfera in realtà è molto serena, comunque tra artisti ci sentiamo un po' e comunichiamo lo stesso, però a prescindere dalle restrizioni che sicuramente un po' mettono difficoltà, però sono contentissimo. Il mio primo Sanremo, sono super entusiasta. Allora, noi di Today non stiamo facendo il Fantasarremo, ma stiamo facendo il Toto Big, quindi prima di salutarci, il tuo favorito a questo festival, ne devi scegliere uno? Il mio favorito? Guarda, io per Scala Manzia non mi sbilancio mai, non mi sbilancio mai, però posso dirti che auguro, cioè chi sarà il vincitore, se lo sarà vuol dire che se lo merita, spero che vinca il migliore. Bene, bene. Allora, la gara è apertissima, il festival sta per cominciare, tu canterai domani sera, quindi noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e buon Sanremo. Grazie, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao.